l'indice pmi americano sta segnalando per la prima volta quest'anno una recessione benvenuti su investire con gus ebbene sì è arrivato il momento di parlare di recessione sembra che stia arrivando anche negli stati uniti recentemente avevo parlato di come l'indice zev stesse segnalando l'arrivo di una recessione in germania ma adesso il pmi sta segnalando anche l'arrivo di una recessione negli stati uniti questo sarà un video molto rapido e vi dirò come mi sto comportando cosa ho deciso di fare adesso che il pmi sembra segnalare una potenziale recessione oggi non guarderemo il report pmi definitivo ma guarderemo il report flash di luglio che è sostanzialmente un report preliminare un report senza i dati completi infatti siamo ancora a luglio però abbiamo una prima visione di come sia andata la prima parte di luglio il pmi dei servizi è sceso a un minimo di 47 e un dato al di sotto di 50 indica una contrazione quindi una potenziale recessione però attenzione cosa importantissima il pmi manufatturiero è ancora al di sopra di 50 perciò sì si sta indebolendo e ai livelli più bassi degli ultimi due anni però non sta ancora indicando una contrazione contrazione per adesso abbiamo avuto soltanto nel pmi dei servizi perciò non è ancora tutto perduto nel settore manufatturiero i nuovi ordini sono scesi però i livelli di produzione non sono cambiati sembra che la politica restrittiva della federal reserve stia avendo un impatto sull'economia e gli economisti iniziano a scommettere su una recessione venerdì l'S&P global eurozone pmi è sceso a 49,4 la prima contrazione da febbraio 2021 questo che abbiamo visto chiaramente soltanto un dato preliminare perciò aspetterò di vedere il dato definitivo e poi ci farò un video fatemi sapere se vi interessa un video sul pmi definitivo di luglio scrivete un commento e fatemi sapere se potrebbe essere un argomento interessante quindi per il momento non sto facendo niente di particolare niente di diverso dal solito ultimamente non sto facendo un gran che con i miei portafogli sono abbastanza in una fase di attesa recentemente chiuso un po di posizioni perciò mi ritrovo ad avere un po di cash da parte in alcuni portafogli nel mio privato probabilmente ho un pochino di cash ma veramente una cifra imbarazzante ridicola tipo l'1 per cento del portafoglio però diciamo che non sono sicuramente in fase di fomo me la sto prendendo in maniera molto tranquilla sto cercando azioni continuo a cercare azioni con frequenza però sono molto conservativo nelle valutazioni e voglio prezzi veramente molto scontati perché una potenziale recessione andrebbe ovviamente a inficiare ogni valutazione quindi bisogna essere molto conservativi e molto prudenti in questo periodo a mio avviso motivo per cui sto anche cercando molte net net e sto cercando di vedere se riesco a trovare qualche arbitraggio interessante vi avevo già parlato di activision blizzard che per adesso sta andando piuttosto bene sono in guadagno circa del 7 per cento una cosa del genere però siamo in un momento molto critico diciamo che nei prossimi mesi si capirà se andremo ad entrare in una seria recessione o se la situazione reggerà e se magari il mercato ha già apprezzato tutto e quindi si può pensare ad un potenziale rally perciò continuo a cercare azioni però non ho fretta non ho smania di investire se trovo qualcosa bene se ne ho pazienza anche perché sono investito alla grande si dicevo un po di cash in alcuni portafogli però nel mio portafoglio privato principale ho veramente poco cash a disposizione come vi dicevo forse l'1 per cento del mio patrimonio mentre nel portafoglio di freedom 24 ho circa il 28 per cento in cash nel portafoglio di toro ho circa l'8 per cento in cash quindi per adesso sono in modalità relax diciamo così e aspetto di vedere il pmi di luglio per questo video è tutto se vi piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale e di condividere il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao ciao